Siamo a Pescara, oggi una giornata particolarmente sentita dalla marineria e da tutti i pescaresi perché oggi è il giorno di Sant'Andrea. La processione in mare, la state vedendo, che potete rivedere anche nella diretta Facebook realizzata dal nostro Luca Pompei, il santo come ogni anno e appunto portato in processione in mare come protettore per i pescatori, ma la festa di Sant'Andrea quest'anno sarà a metà perché non ci saranno i tradizionali fuochi. Domani a mezzanotte non ci sarà lo spettacolo pirotecnico a chiusura della festa dei pescatori per una questione tecnica. Ad annunciarlo sono il presidente del comitato feste Massimo Di Francesco e i componenti Massimo Camplone, Ennio Maione, Lanfranco Sabatini e Riccardo Padovano. Ma perché questo? Una scaletta verso la diga Forani è rotta da tre anni e nessuno l'ha aggiustata in tempo e all'essere un sito alternativo si è rivelato un'impresa impossibile per le direttive della piano di sicurezza. Si ferma dunque una tradizione che va avanti da 80 anni e tutti a casa dopo il concerto dei Dick Dick. Si è svolta invece come potete vedere dalle immagini su Facebook stamattina la processione in mare in onore di Sant'Andrea dopo la messa presieduta nella chiesa di Sant'Andrea dall'arcivescovo Tommaso Valentinetti. Di seguito la statua del santo è stata portata in processione sul peschereccio Nicola Padre, toccante in particolare il gesto delle corone gettate in mare e delle sirene per ricordare i marittimi che non ci sono più come l'armatore, il compianto Mimmo Grozzo.